Era prevista alle 16, se il fondo della sala ci aiuta possiamo dare inizio a questa presentazione. Passiamo da una magia all'altra perché adesso dal tema degli sciamani passiamo a quello delle piazze d'Italia. Ce ne parla, è scritto un libro, anticipo il giudizio, bellissimo, affascinante, di piacevolissima lettura, Costantino Rodato, Dorazio. Salve, buonasera. Costantino Dorazio, io sono Massimo Tedeschi, giornalista del Corriere della Sera, ho il piacere di dialogare e di presentarvi Costantino. Andare per piazze d'Italia, nella collana del mulino, ritrovare l'Italia. Costantino, per chi non lo conoscesse, è un volto noto anche attraverso i media televisivi, è uno storico dell'arte, che lavora presso la soprintendenza capitolina dei beni culturali, è stato e ha tante attività, le cito per grandi capitoli, curatore di mostre di arte contemporanea, fra gli autori con cui ha lavorato c'è Mimmo Paladino, che a Brescia dice molto. Abbiamo una sua opera qui in piazza, è un volto presente, dicevo, è una voce presente alla radio e alla televisione, Rai 1, la trasmissione 1 mattina in famiglia, e linea verde, Rai 3, Geo & Geo, Rai News 24, AR, frammenti d'arte, saggista, la faccio breve a tantissimi libri di titoli di storia dell'arte, e in questa collana, ritrovare l'Italia, ci parla delle piazze. La collana è curiosissima, la edita il mulino, e fra i titoli che ci sono, non curati da Costantino, trovate andare per i luoghi del 68, andare per i luoghi del confino, andare per la linea gotica, quindi itinerari strani, ma che parlano della nostra storia, della nostra identità nazionale. Il libro delle piazze, lo spiega Costantino nella conclusione, nasce dall'esperienza di uno mattina, dopo il covid, quali erano gli spazi dove si andava e dove ci si ritrovava più facilmente, erano quelli all'aperto e la trasmissione. Sì, anche durante il covid. Sì, anche durante, se e quando si poteva uscire. Lui affronta, descrive 44 piazze d'Italia, se non ho contato male, le divide per categorie, piazza Mercato, piazze Fontana, piazze Monumento, piazze Sagrato, piazze Coperte e piazze Contemporanee. Chiude, naturalmente, in maniera molto poetica e affascinante, con Venezia la città dei 102 campi, dei 134 campielli e dell'unica piazza, piazza San Marco. L'unica cosa che aggiungo è che il modo con cui Costantino ci parla delle piazze è quello che piace a me. C'è storia dell'arte, ma c'è anche vita delle città, c'è la vita dei cittadini che si muovono in queste piazze, ci sono gli usi che di queste piazze sono state fatte. Bene, finisco con la frase conclusiva del libro di Costantino che trovo sapiente. Se siamo cittadini è perché possiamo ritrovarci in una piazza. Lo avevano già capito gli antichi greci e noi oggi non dobbiamo dimenticarcelo. Dagli antichi greci, dal Lago Rà alla piazza moderna, alla piazza contemporanea, alla piazza italiana. Come si compie questo viaggio e quali sono le caratteristiche della piazza italiana? Poi vedremo alcune categorie. So che ci guiderai anche con le immagini a te. Sì, sì, cerco sempre di far vedere le immagini perché poi il racconto di queste cose è il racconto di cose che si vedono, oltre cose che si vivono in questo caso, come sono le piazze, quindi è sempre bene farli vedere. La piazza è un'invenzione, cioè non è che c'è sempre stata la piazza. La piazza c'è stato un momento in cui ha cominciato ad esistere. Noi lo diamo per scontato perché continuamente attraversiamo piazze, ci ritroviamo in piazza. Nelle piazze sono accadute tantissimi eventi storici che noi studiamo, che ci ispirano, che ci ricordiamo. E nelle piazze continuano ad avvenire tutte le manifestazioni più importanti, più incisive delle nostre idee. Se c'è qualcosa che non ci va bene, si dice ancora oggi, scendiamo in piazza. È il luogo un po' del confronto, del confronto di idee, del confronto di persone, del confronto di storie. Però c'è stato un momento in cui questa piazza ha iniziato ad esistere. Perché, come chi ha studiato un po' di storia ricorderà, la famosa Agora, che ha citato anche Massimo, è sicuramente la prima manifestazione di piazza, ma prima che cosa c'era? Cioè perché i greci solo ad un certo punto hanno sentito la necessità di realizzare uno spazio vuoto all'interno delle loro città? Allora prima, se spero mi aiuti il telecomando, ovviamente no, vuoi cambiare tu? Io ti dico cambia, tu cambia. Ecco, prima c'era questo. C'erano i grandi palazzi babilonesi, i grandi palazzi micenei, quelli che vedevano in realtà la vita pubblica svolgersi all'interno delle mura di grandi residenze, che non erano degli spazi aperti, bensì degli aglomerati di tanti edifici al centro del quale c'era quello del re e intorno al quale si distribuivano altri edifici. L'idea del labirinto, no? L'idea del labirinto di Minossa è questa. In fondo che cos'è il mito del labirinto? È la traduzione letteraria di una struttura urbanistica che all'epoca era quella che poi avrebbe compiuto il ruolo della piazza successivamente, cioè il luogo di rappresentanza, il luogo in cui avvenivano i riti pubblici, lungo magari questi lunghi viali, no? Sapete, poi decorati da meravigliosi maioliche, disegni su maioliche a destra e a sinistra, cioè il tema dello spazio aperto non esisteva perché in fondo non c'era una comunità che si doveva incontrare, bensì c'era un re, un signore, che doveva far sentire attraverso l'architettura in cui abitava la propria presenza, gli doveva far aleggiare la propria presenza tra i sudditi. Poi, come sappiamo bene, è un cambiamento anche strutturale della società a cambiare le cose. In Egitto funzionava un po' nello stesso modo. I grandi piazzali che noi ritroviamo di fronte a questo, per esempio, che è il tempio con la tomba di Hatshepsut, dell'unico faraone donna, il faraone donna più famoso della storia dell'Egitto, sono delle piazze rivolte verso un edificio. La piazza, badate bene, e lo vedete anche voi, quando passate, per esempio, intorno a Piazza Vittoria, non ha di solito un punto di vista privilegiato. La piazza vive della possibilità che ci si guardi l'un l'altro senza doversi concentrare verso un punto. E vedremo come poi nella storia questo cambia. E allora, per esempio, a proposito di questo, salto un po' di palo in frasca, ma siamo comunque in una fase di brainstorming, Cesare Brandi, grande storico dell'arte, storico dell'architettura, che ha raccontato nelle terre, in questo bellissimo saggio, le terre d'Italia, tanti luoghi del nostro paese. Quando si sofferma su Piazza Venezia, a Brescia molto cara, perché come sapete è fatto il monumento del Vittoriano, è realizzato col marmo botticino, che proprio da queste zone venne voluto e recuperato dal Zanardelli, dal primo ministro, questa lui la chiama una non piazza. Esattamente per il motivo che vi dicevo prima. È vero, ci sono stati dei momenti storici in cui è stata utilizzata per delle adunate, ce li ricordiamo molto bene, ma anche in quel caso, esattamente come nel momento in cui è stato costruito questo enorme monumento, la piazza non ha mai avuto la funzione storica che le piazze hanno. Cioè si va in questa piazza, si andava durante le adunate, e si va oggi per rivolgersi verso questo monumento, per salire verso questo monumento. A parte il fatto che è una piazza trafficatissima, quindi anche fisicamente non ci si può affermare che si vengono arrotati. Però l'idea che esista una direzione fa in modo che un luogo perda la funzione, che una piazza perda la sua funzione storica. Perché, la faccio breve, altrimenti la spendo tutta l'ora che abbiamo a disposizione solo nella parte storica, in fondo l'agorà, di cui in realtà noi siamo eredi, di cui le nostre piazze sono eredi ancora oggi, era una pausa all'interno della urbanistica serrata di una città in cui si doveva sostare, ci si doveva girare, perdersi, appunto come dicevo prima, confrontarsi, senza necessariamente avere un punto di vista privilegiato. Qui per farvi capire il rapporto, per esempio ad Atene, tra l'acropoli, spazio pubblico religioso nella parte alta, e l'agorà, che era lo spazio pubblico privilegiato nella parte più bassa della città. Chiudo facendo questo velocissimo escursus su come i romani hanno ereditato, quanto i romani hanno ereditato delle piazze dell'agorà, beh, quello che i romani hanno fatto, aggiungendo qualcosa di particolarmente nuovo all'interno delle agorà greche, è di riempire l'agorà di monumenti. Il Foro Romano, la prima grande piazza costruita a Roma, a valle dei Sette Colli, oggi si presenta come un groviglio di resti, di reperti, di una serie di templi e di edifici, di basiliche che sono state costruite in 500 anni di storia, e anche oltre. Perché nel momento in cui la piazza è stata riconosciuta come spazio privilegiato della comunità, ogni governatore potente per riconoscersi, per farsi riconoscere dalla comunità, è intervenuto sulla piazza con un monumento che parlasse di sé. Qui ci sono vari resti, per esempio, è successo anche nel Foro Romano a Brescia. Il Foro Romano è esattamente come quello appunto che abbiamo nella capitale, il luogo nel quale, forse meglio, anche meglio rispetto a Roma, si capisce il senso monumentale di una piazza antica. Ora, non sto a raccontare il Foro Romano di Brescia perché lo conoscete molto meglio di me, ma quello che vi voglio sottolineare, che rende anche il Foro Romano di Brescia una icona fondamentale per capire qual è il senso antico della piazza, è la grande scalinata che permetteva l'accesso, e non me la fa vedere, al Tempio. Cioè, salire su questa scalinata significava in qualche modo abbandonare lo spazio pubblico del confronto e salire su uno spazio religioso per il confronto con la divinità. Cioè, aver deciso nell'antichità romana recuperata qui da Vespasiano questa diversa collocazione dello spazio, questo diverso anche livello, ha determinato un'evoluzione della piazza. I templi greci, sulle loro scalinate, tra l'altro bassissime, erano nell'acropoli. La piazza era tutta su un livello, tra portici e luoghi in cui confrontarsi. L'idea del podio, che tra l'altro poi ritroviamo anche nelle piazze moderne, arriva da qui, da Roma e da quello che è rimasto molto meglio visibile che a Roma, a Brescia. Chiudo parlando dell'uso che di questi podi e di questi palcoscenici hanno fatto poi gli imperatori romani perché ai fori repubblicani si sono sostituiti in parte quelli che noi chiamiamo fori imperiali. Nel momento in cui è cambiato, perché la piazza per lungo tempo è stato lo specchio del sistema governativo. Cioè, per capire come è cambiato il rapporto tra il popolo e i propri sovrani, basta guardare i monumenti delle piazze. E i fori imperiali, in fondo, quello di Traiano, poi arrivando, c'è quello di Augusto, di Cesare, di Nerva, il Foro della Pace, sono questo, sono piazze in cui in ogni punto noi, loro, si trovassero, sentivano la presenza dell'imperatore. Perché c'era un monumento equestre al centro, perché c'era un monumento a lui dedicato dopo la sua morte, cioè diventano lo spazio privilegiato della propaganda. Grazie, Costantino. L'hai già segnalato tu, nel tuo libro si parla anche del Foro di Brescia, si parla anche di Piazza della Loggia, ne parleremo alla fine, si fa un accenno anche a Piazza della Vittoria, chiuderemo, credo, su quella. Andiamo avanti, allora, questa è, ci hai spiegato che era la piazza dell'antichità, dell'antica Grecia, dell'antica Roma, arriviamo a piazze che ci sono più vicine, che hanno una funzione specifica, le piazze mercato, perché noi ce le immaginiamo molto come il luogo dei banchi, delle bancarelle, ed è una funzione tipica delle piazze italiane, fra l'altro tu insisti anche su due aspetti molto belli, perché leggendo il libro di Costantino viene voglia di andare a vedere o a rivedere delle piazze scoprendone e scoprendone dei dettagli. In molte piazze mercato c'erano delle misure e c'erano anche i luoghi dove si punivano coloro che infrangevano le misure. La piazza mercato, facci scoprire qualcosa. La piazza mercato è la prima manifestazione di piazza, potremmo chiamarla, moderna o successiva all'antichità. Immaginate anche qui come cambiano le società. Nel momento in cui cade l'impero romano, c'è questo grande vuoto di potere in Europa, prima ancora che la chiesa salga ad un'autorità che le permetta di costruire grandi chiese con degli ampi sagrati e malgrado anche la presenza di grandi chiese con grandi sagrati le città, i borghi si ricostruiscono, rinascono intorno alla piazza. In Italia non esiste borgo antico, medioevale che non giri intorno ad una piazza grande o piccola che sia e questo ancora una volta spiega la centralità della piazza nella vita quotidiana delle persone. Perde il significato e il ruolo di spazio di propaganda loro acquisterà successivamente e diventa spazio di lavoro sostanzialmente. Quindi le prime piazze che ritroviamo in Italia dopo la caduta dell'impero sono piazze che brullicano di mercati. Adesso ne ho indicate alcune non so nemmeno se ho tutto nello. Per esempio quella che si pare sia la piazza medioevale più antica d'Europa è piazza maggiore di Bologna. È quella nella quale è come dire stato sono stati trovati documenti che sanciscono la nascita del mercato cittadino più antico d'Europa siamo all'inizio diciamo mercato ufficiale all'inizio del 1200 c'è una piazza che viene organizzata per ospitare il mercato tra l'altro bellissimo e poi chiaramente nel libro descrivo sia il motivo per cui la basilica di San Petronio non è conclusa descrivo per esempio la particolarità vedete che al centro della piazza c'è uno scalino non so se riuscite a riconoscere una piccola parte sopraelevata ecco i bolognesi l'hanno soprannomiato il crescentone perché sembra una focaccia un'enorme focaccia allora non si sa bene diciamo quando effettivamente è stato costruito con questa con questa idea ma la cosa particolare è che all'interno su un angolo del crescentone c'è una una frattura no il marmo è rotto probabilmente perché un carro armato che con la fine della seconda guerra mondiale nel giorno della liberazione è salito durante i festeggiamenti sul crescentone e l'ha spaccato questi sono dei dettagli per esempio in quel caso che la città non ha riparato perché nelle piazze a volte avvengono delle cose e parleremo anche di quello che è avvenuto qui e ancora non è stato riparato che è giusto tenere le cui tracce è giusto tenere perché diventano immediatamente memoria collettiva cioè tante cose accadono nelle nostre case tante cose sono accadute nei palazzi ma poi i palazzi sono stati restaurati trasformati spesso quello che accade nelle piazze diventa immediatamente proprietà collettiva appartiene a tutti noi e quindi merita di essere lasciato infatti come diceva bene Massimo in piazza maggiore ma anche per esempio in piazza delle erbe a Padova anche questa antichissima piazza nata essenzialmente per aspettare un mercato cosa che ancora accade oggi come ben sapete ci sono luoghi che nel tempo hanno cambiato nome o dettagli come questi che vi stava indicando Massimo sia in piazza maggiore sia in piazza delle erbe come in questo caso sui muri rimangono tracce di questi segni che non sono altro che delle unità di misura per la quantità di farina per la grandezza delle pagnotte che i mercanti dovevano rispettare nella vendita dei prodotti questi erano ad uso e consumo dei clienti cioè il cliente per provare di non essere stato frodato o di aver ricevuto la giusta quantità di merce che aveva pagato poteva recarsi lì e confrontarlo con l'unità di misura nel momento in cui avesse verificato un errore e il mercante non avesse voluto riparare beh il mercante veniva condannato per esempio a Padova sotto questo arco è stato chiamato il canton delle busie cioè l'angolo delle bugie perché chi commetteva una frode veniva imprigionato incatenato sotto questo arco e a volte anche impiccato se poi la frode era eccessiva era ripetuta ma considerate che per esempio il palazzo della ragione che vi ho fatto vedere prima in piazza delle erbe a Padova era un tribunale era il tribunale soprattutto dedicato a tutti i processi dovuti agli scambi commerciali che avvenivano nelle piazze della città quindi la piazza ha anche determinato gli elementi architettonici che sono rimasti invariati e la piazza mercato forse più antica e più nota ci arrivo dopo qua più nota e meno oggi riferita a un mercato è proprio piazza anzi senza piazza è il campo di Siena perché questa è una importantissima cosa ci dice che è un importantissimo e fondamentale piazza mercato il fatto che sia stata realizzata su un pendio la città di Siena nel tredicesimo secolo quando si apre piazza del campo scusatemi quando il campo era sopra cioè la zona del campo era fuori città quello che passava sulla piazza era quella strada che vedete giù in basso in questa immagine era lungo un percorso significativo tra il nord della Toscana e Roma un percorso molto frequentato dai mercanti che sostavano in questo luogo aprivano periodicamente i loro banchi e si sistemavano soprattutto nella parte alta della piazza perché ogni giorno alla fine del mercato soprattutto del mercato ortofruttico nel mercato del pesce nel mercato della carne la piazza veniva lavata e le acque defluivano in un canale che si trovava in basso permettendo quindi alla piazza di essere pulita molto facilmente poi nell'immaginario collettivo nel tempo questa piazza è stata divisa in spicchi tanti quanto sono i rioni della città e quindi le contrade che poi si sfidano nel palio è diventato una piazza in cui i palazzi si sono disposti in modo tale da poter assistere al palio in modo migliore possibile ma certo nella sua organizzazione urbanistica iniziale la memoria della sua funzione iniziale è rimasta andiamo avanti c'era anche un oggetto strano che si è affacciato in una cittazione dai la merita non è lontano da qui lo riconoscete si trova a Verona in piazza delle erbe ed è questo arco è stato soprannominato nel tempo arco della costa proprio per via di questo elemento che è appeso quando torniamo a Verona che sta qua vicino fateci caso non sappiamo assolutamente che cosa sia né quando si è arrivato in quel punto probabilmente è la costola di una balena che era stato collocato lì come segnale di una farmacia che si trovava esattamente come in segna di una farmacia che si trovava e tra l'altro si trova ancora perché c'è una farmacia proprio in basso lì a sinistra vedete come le piazze sono veramente a volte ricettacolo di elementi di cui si perde la memoria ma che stanno lì non danno fastidio no? nel corso del tempo rimangono e continuano a parlare di quello che poi della piazza non parla nient'altro perché sì nella piazza ci sono le statue ci sono le fontane poi ne parleremo ci sono meravigliose opere d'arte ma ci sono anche questi segni minuscoli no? le tracce della misura della merce la costa e molti altri che poi nel libro indicato chiaramente non abbiamo tempo di parlarne ma c'è anche questa micro storia questa micro memoria all'interno delle nostre piazze che tra l'altro è gratis cioè non è che bisogna pagare qualcosa per andare a conoscere sta là basta insomma andarsela a guardare la gratuità degli spazi delle piazze nella gratuità rientra anche l'acqua tema che io adoro perché poi tu sottolinei giustamente come le fontane veniamo le piazze fontane le fontane fanno da colonna sonora delle città quindi hanno questa questa musicalità questo fascino che attribuisce veramente delle note musicali alla città e poi a proposito di presenze che aleggiano ho trovato andate a leggerlo quando avrete il libro quanto è affascinante il racconto che tu fai di piazza del popolo a Roma che è un'altra delle piazze fontane dove scopriamo che c'è uno spirito che aleggia che è quello niente meno che di Nerone che stava annidato in un bosco di pioppi populus dal latino populus e poi alleggia anche lo spirito di un imperatore che in realtà avrebbe dovuto inaugurare la riforma della piazza ma lì non è mai arrivato Napoleone quindi è una piazza dei due imperatori che aleggiano davvero come presenza ma dicevo le piazze fontane ce n'è una strepitosa e spettacolare che è piazza pretoria che tu ci spieghi ci racconti a Palermo e c'è la piazza io credo che sia la più iconica d'Italia piazza Navona come le leggi e come le racconti mi trattengo un minuto su piazza del popolo che tu hai indicato prima perché anche piazza del popolo a Roma che tutti quanti immagino conoscete ci sarete passati almeno una volta è un luogo molto significativo perché per secoli è stata la porta della città cioè chiunque arrivava alla nord entrava a Roma attraverso la porta Flaminia ma quando dico per secoli dico fino ai primi del novecento perché Roma terminava lì cioè il quartiere Flaminio nasce nei primissimi del novecento quindi immaginate questo luogo che era letteralmente il biglietto da visita della città questa sua posizione ha determinato gli interventi nel corso del tempo cioè chiunque ha governato la città o molti governatori della città appunto senatori papi imperatori hanno voluto lasciare un segno però la cosa che più forte poi ha determinato il nome della piazza non è l'obelisco che c'è di Augusto che poi ci ha messo Sisto Quinto non è l'intervento di Napoleone ma è una leggenda tu sottolineavi ma lo voglio dire un po' meglio nel senso perché mi piace proprio come idea piazza del popolo non ha niente a che vedere con popolo uguale gente il nome popolo viene da populus che in latino significa anche pioppo e c'era un piccolo bosco di pioppi proprio all'interno delle mura a sinistra della porta Flaminia dove si diceva fosse stato sepolto Nerone Nerone poveraccio ha sempre avuto una pessima fama anche se non ha lui scatenato l'incendio come sapete gli attribuiamo molti gli attribuiscono l'incendio di Roma comunque non si è mai fatto benvolere poverello invece in realtà è stato anche un imperatore abbastanza illuminato per alcuni versi e addirittura nel 400 cioè 1400 anni dopo Papa Sisto IV decide di distruggere i pioppi e di costruirci Santa Maria del Popolo la chiesa sopra mantenendo però questo nome che diventa però poi anche sinonimo di Santa Maria del Popolo cioè della gente quello che voglio sottolinearvi è che a volte tutti gli interventi termine tecnico antropici che noi operiamo sulle nostre piazze in realtà non possono niente sulle leggende che sono molto più forti e che appunto determinano il destino di tanti nostri luoghi proprio perché la piazza è memoria è racconto è come dire vita e quello che attraverso il racconto la parola si tramanda hai citato piazza Pretoria vediamo se l'immagine successiva riguarda proprio piazza Pretoria eccola qua sì allora questa fontana che si trova a Palermo è una si trova a Palermo dal Cinquecento è una è una storia molto particolare non so se la conoscete prima di tutto non so se riuscite a notarlo è una fontana sovradimensionata rispetto alla piazza cioè quella che vedete in alto è una strada dove passano le macchine che ha non so due metri dalla piazza sulla parte alta a destra l'edificio è distante veramente un metro e mezzo anche lì due metri dalla fontana cioè è una fontana monumentale ma non c'è lo spazio per ammirarla nella piazza cioè siamo sempre a ridosso della fontana perché perché questa fontana non era stata costruita per stare là era stata commissionata da un nobile spagnolo il suocero del duca di Firenze a metà del Cinquecento di Cosimo I per il suo giardino ad un certo punto però un giardino enorme ovviamente chiaramente un giardino un parco ecco direi un parco la fontana viene questo signore però poi va in bancarotta e deve liberarsi di questo oggetto perché non ha neanche finito di pagarlo e ovviamente non ha neanche modo per poi montarlo nel suo parco e allora grazie ai rapporti della nobiltà spagnola riesce a farlo acquistare dal vicere spagnolo che governava Palermo in quel momento e la fontana divisa in oltre 650 pezzi viaggia e arriva a Palermo dove viene rimontata in questo piazzale di fronte ad un monastero di clausura che ancora c'è la fontana se volete vedere qualche dettaglio è costituita da tutte statue nude sono ovviamente allegorie di fiumi come quelle che avete sdraiate allegorie della natura di divinità ma la caratteristica è che a parte alcune donne come vedete si mettono le mani davanti uomini e donne sono tutti completamente nudi era chiaramente un inno alla cultura all'iconografia rinascimentale che celebrava l'arte e la scultura greca romana beh a Palermo immediatamente questa fontana viene soprannominata fontana della vergogna prima di tutto perché è vergognosa l'impudicizia di queste figure col pensiero alle suori che qualcuno sostiene siano le responsabili di alcuni atti di vandalismo che immediatamente cominciano a cadere su questa fontana appena viene montata perché a un certo punto cominciano a smontare membri maschili insomma a fare di tutto su questo luogo qualcuno appunto accusa anche le suori che di notte uscivano qualcun altro sostiene invece che appunto la vergogna si riferisca all'enorme spesa pubblica che venne fatta che venne compiuta per realizzare questo monumento che Palermo si ritrova lì bellissimo completamente fuori scala come dicevo prima ma anche fuori storia ma è un'altra storia che però si aggiunge un'altra curiosità un'altra curiosità che si aggiunge a questa città tra l'altro è una fontana straordinaria perché è una delle poche fontane dove noi possiamo quando la aprono raramente perché è protetta da una ringhiera salirci all'interno ci sono delle scalinate che fanno vedere le varie vasche vari punti di vista per farvi capire l'enormità questo non accade in quasi nessuna fontana l'altra che lui citava e che mi ha particolarmente a cuore è invece la fontana dei fiumi di Piazza Navona anche questa è una fontana che forse voi conoscerete ma della quale vi voglio raccontare alcuni piccoli dettagli beh allora innanzitutto l'obelisco che vedete è un obelisco che è stato recuperato dal circo di Massenzio sulla via Appia spostato quindi del noi a Roma abbiamo 13 obelischi egizi tutti antichi tutti originali egiziani riportati a Roma dall'Augusto che aveva conquistato l'Egitto e che poi ha indetto questa moda per cui molti altri imperatori hanno portato questi obelisti che oggi noi vediamo in frammenti collocati l'uno sull'altro ma erano dei pezzi unici pensate che per portare l'obelisco che si trova a piazza San Giovanni in Laterano che è con la sua base l'obelisco più alto di Roma Caligola fece ovviamente realizzare una enorme barca per portarlo nella città barca che verrà utilizzata poi per sostenere il faro del porto di Roma erano delle isole queste barche non erano delle semplici imbarcazioni questo obelisco viene preso dal circo di Massenzio e portato nel cuore di piazza Navona quando Papa Innocenzo X Panfili decide che la piazza doveva in qualche modo anticipare la meraviglia del suo palazzo e soprattutto la meraviglia del suo governo per il giubileo del 1650 Bernini viene incaricato di allestire questa fontana dedicata ai quattro fiumi i fiumi più lunghi dei contenenti allora conosciuti allora al volo il Nilo per l'Africa forse ricorderete se avete fatto delle visite guidate a Roma ha la testa coperta perché non erano ancora state scoperte le sue sorgenti il Gange per l'Asia e ognuno di questi fiumi viene associato a degli animali per esempio l'Africa è legata al leone dalla celebre espressione romana Inc sunt leone se no da qui in poi cioè nel deserto c'erano soltanto leoni il Gange invece non lo riconoscete in basso lì vediamo se ho un'altra foto più del dettaglio no non la vedete aspettate no non c'è ve la torno indietro è associata al drago che emerge lì in fondo questo animale che vedete invece curioso che avete intravisto prima è associato al rio della plata ed è un animale di fantasia che Bernini recupera nella corpo dal chiamiamolo carapace di un ornitorinco che aveva visto probabilmente nella museo di meraviglie che aveva allestito in quel periodo Atanasius Kircher Atanasius Kircher era un gesuita che insegnava al collegio romano e all'interno del collegio romano dove oggi c'è ancora un liceo il liceo Visconti aveva allestito questa stanza in cui aveva messo e si era fatto arrivare animali piante pietre da tutto il mondo tra cui un ornitorinco che però non aveva più il muso e allora Bernini si inventa il muso fantasioso quasi quello di un drago di un pesce per questo animale di cui aveva visto la pelle chiamiamola così le scaglie all'interno del museo questo è il Danubio per l'Europa e questo è il celeberrimo Rio della Plata dico celeberrimo perché la storia ve l'avranno raccontata anche a voi no? la posizione di questo di questo fiume starebbe lì con la mano alzata perché dovrebbe proteggersi dalla caduta imminente della chiesa costruita da Borromini sarebbe un modo tra i due tra Berlini e Borromini che in qualche modo come dire non si amavano per come dire canzonarsi per dirsene no? continuare a confrontarsi in realtà questa è un'altra delle storie che hanno raccontato le guide di Roma fin dal settecento fino al grand tour la chiesa non esisteva ancora quando la piazza era stata conclusa l'idea che potesse crollare è assolutamente un frutto della fantasia dei dei narratori della città ma quello che però a me interessa sottolinearvi è la posizione di questo di questo fiume e degli altri che avete visto prima sono seduti hanno il corpo che si torce sono particolarmente vivaci ma hanno un dettaglio fondamentale che tutti gli storici dell'arte riconoscono che è la loro pancia nella pancia questi fiumi hanno una piega dovuta ai muscoli che è la stessa piega che Michelangelo colloca sul ventre dei nudi della cappella sistina della volta della cappella sistina ora non ho qui il dettaglio però fidatevi tutti i nudi hanno questo che derivava da una scultura antica dal torso del belvedere ritrovato proprio mentre Michelangelo lavorava in Vaticano ebbene in fondo Bernini nel creare questa fantasmagoria di cui vi ho detto solo quattro cose perché se ne potrebbe parlare per settimane vuole fare un omaggio all'unico grande altro scultore che lui ammira Michelangelo a cui lui però aggiunge l'idea di un movimento che coinvolge anche noi perché fateci caso per ammirare molte fontane basta guardarle e si capisce tutto quello che vogliono dire per ammirare la fontana dei fiumi bisogna girarci intorno perché che è non solo un bel monumento da ammirare ma diventa un'esperienza che noi facciamo con il nostro corpo ed è poi il segreto dell'arte della scultura dell'architettura barocca mi sono dilungato scusami assolutamente come avrete capito noi stiamo facendo degli assaggi rapidissimi perché ci sono dei tempi di viaggio di trasporti pubblici che costringono Costantino vorrei tornare a Roma per votare infatti e dici poco ci tengo se riusciamo però facciamo un altro piccolo di questi carotaggi le piazze ideali perché quando arrivi a Pienza ti sembra di essere precipitato nella città ideale quando sali sul Campidoglio sei di fronte a una piazza che è talmente iconica e talmente modello che è stata poi replicata i capital sono molteplici negli Stati Uniti quindi un modello addirittura globale prego Pienza allora qui aggiungiamo un altro elemento in più le piazze che vi ho fatto vedere finora sono piazze monumentali disegnate sicuramente ma sono soprattutto quelle medievale abbastanza spontanee è il tempo è l'uso che ne ha poi determinato la struttura è il quattrocento però è il secolo nel quale tutto tutto dagli oggetti comuni appunto alle piazze alle case alle esperienze viene pensato deve essere pensato deve essere calcolato cioè deve essere il frutto dell'armonia che il nostro corpo riflette in fondo se noi mangiamo da una parte del corpo digeriamo da un'altra evacuiamo da un'altra è perché esiste una regola esiste un'armonia esiste un processo allora tutto questo viene riportato anche nello studio degli spazi urbani la piazza la piazza di Siena la piazza centrale di Siena piazza Pio II la piazza dal papa Pio II Piccolomini che l'ha Enea Piccolomini che l'ha commissionata è una perfetta costruzione che in realtà e questo è abbastanza assurdo se ci pensate potrebbe fare a meno della gente cioè per apprezzare piazza Pio II di Pienza non ci devono essere le persone perché se entrano le persone all'interno spezzano quell'armonia di linee e di prospettive che la piazza ha perché la piazza è essenzialmente frutto di un disegno che fa meno delle persone perché in realtà prima di questa piazza c'è stato fammelo vedere dai computer questo quadro la famosa città ideale ce ne sono tre versioni no? Urbino Baltimora New York qual è la particolarità di questa piazza perché è il simbolo di una mentalità che è quella rinascimentale perché tutto si gioca sulla perfezione della geometria degli spazi e non prevede l'intervento umano che in qualche modo spezza non solo lo spazio ma anche il tempo cioè in fondo noi non sappiamo in che momento della storia siamo qua perché non c'è nemmeno qualcuno che camminando ci indica il minuto il secondo no? Non c'è nulla che ci fa pensare a una storia reale è tutto ideale ma perché la prospettiva nella quale si era collocata in quel momento era essenzialmente quella è incredibile che un disegno quindi un elemento assolutamente virtuale poi sia stato riprodotto in tre dimensioni a prescindere da quello che la piazza ha dalla funzione che la piazza ha avuto nel corso del tempo e quando poi Michelangelo scusate mi salti da Paolo in fazza che faccio viene poi incaricato di ridisegnare la cima del colle Campidoglio in fondo fa un'operazione che non è assolutamente paragonabile a quella di piazza Pio Secondo a Pienza ma in cui il disegno è fondamentale perché qui riproduce rovesciandolo ve lo faccio rivedere il disegno trapezoidale di piazza Pio Secondo ok? allora in piazza Pio Secondo idealmente si dovrebbe entrare dal viale che trovate dal vicolo che trovate in basso in questa fotografia e come una sorta di cannocchiale rovesciato si apre lo spazio intorno a noi di fronte a noi in piazza del Campidoglio invece succede esattamente il contrario ma c'è un motivo dai si fa il bravo ok c'è un motivo perché lo vedete bene da qua gli edifici laterali sono anche questi collocati in modo trapezoidale in posizione trapezoidale e convergono verso il palazzo senatorio in fondo come una quinta teatrale ma disegnano un trapezio sul cielo cioè ascendendo sulla cordonata noi veniamo come idealmente assorbiti da questa idea di essere proiettati verso il cielo verso l'alto oltre poi al disegno meraviglioso che lui si è inventato e che pensate è stato realizzato soltanto negli anni trenta del novecento la piazza lui l'aveva disegnata così ma il progetto è stato collocato solo durante il ventennio ha disegnato questa sorta di fiore per allargare vista dall'alto l'idea della piazza cioè qui per farla breve vince più che il monumento più che l'uso della piazza il disegno cioè quanto poi una piazza diventi frutto di un calcolo che ha degli effetti sull'urbanistica arriviamo a Brescia dai riusciamo ancora a fare un passaggio sulle piazze coperte ah se vuoi la galleria di Milano è una piazza coperta fra l'altro anche qui questa credo sia Napoli io sbaglio questa è Milano ma fra l'altro cito solo un aneddoto che ho scoperto la galleria di Milano non piaceva ai milanesi e è legata anche a un fatto tragico che il progettista il giorno dell'inaugurazione muore in una maniera anche spettacolare sì non si capisce appunto se o suicidio o omicidio allora le piazze coperte hanno una storia e un ruolo ancora diverso rispetto a tutto quello che vi abbiamo raccontato oggi perché sono fondamentalmente delle piazze commerciali le piazze coperte nascono come dei salotti in cui ci si può sedere si può acquistare ci sono i caffè quindi sono il frutto di una società che è ormai alla fine dell'ottocento una società borghese la classe borghese ha bisogno di luoghi per ritrovarsi per riconoscersi per vivere la propria quotidianità e allora la piazza coperta risponde a questa esigenza per questo motivo sono piazze nelle quali si aprono caffè ristoranti teatri ovviamente lì dove c'è come dire anche la necessità perché fa freddo perché c'è necessità diciamo di un inverno molto rigido ma quello che però le piazze coperte diventano anche malgrado questa esigenza è un omaggio alla tecnologia cioè nelle piazze coperte l'Italia torna ad essere diventa una città moderna le capriate in ferro il vetro che le copre cioè tutto questo non apparteneva ancora all'architettura italiana entra a far parte del paesaggio urbano grazie alle piazze coperte Milano o Napoli o Torino come Parigi per esempio poi va bene all'interno della piazza della galleria Vittorio Emanuele di Milano c'è anche questo dettaglio che non so se voi conoscete questo toro che sta lì in realtà per motivi completamente dispersi rispetto a quello che si pensa cioè è stato attribuito al simbolo di Torino e quindi in virtù della faida insomma della competizione della rivalità tra le due città i milanesi hanno cominciato a calpestarlo nelle parti sensibili chiamiamo così a questo poi si è aggiunta una superstizione chiunque vada a Milano deve fare tre giri col tallone o col piede su questi genitali per poter avere buona fortuna un po' come la moneta che si getta in Fontana di Trevi sostanzialmente per poter tornare ma di nuovo queste sono storie che non c'entrano niente con la storia documentata ma è in piazza che nascono più che altrove abbiamo due minuti poi ci fanno segni abbondanti un passaggio su Brescia tu ci ricordi che Piazza della Loggia è una piazza monumentale perché ha delle statue e ne ha tante ne ha di parlanti e poi parlando di statue non possiamo chiudere sul tuo amico Paladino che ci ha lasciato la stele ma vi avrete pure richiesta di lasciarla dove? ma non è che la ho lasciato ci l'ha lasciata ben volentieri ben richiesta ma è anche al posto di una statua che lì potrebbe tornare le piazze allora la Loggia la conoscete molto meglio di me l'avrete anche sicuramente magari anche utilizzata degli appuntamenti ve li sarete dati ma la Loggia mi permette di parlare appunto di della di quanto i monumenti le sculture quando entrano nelle nostre piazze come dire diventano parte della cittadinanza diventano cittadini ufficiali della comunità che li ha accolti allora lei come sapete per secoli è stato utilizzato come statua parlante no? lei che si che si confrontava che costituiva il megafono della volontà popolare del pensiero dei cittadini contro i governanti suo malgrado si trova lì come sapete doveva stare sopra la Loggia ma non c'è mai arrivata però forse grazie al fatto che si trova sotto il portico e si è trovata in mezzo alla piazza per tanto tempo la città l'ha riconosciuta l'ha conosciuta là sopra sarebbe stata una anonima virtù da nessuno riconosciuta ecco su questo secondo me è necessario che la città di Brescia che tutti voi facciate una riflessione quando pensate e ripensate e cercate di decidere cosa fare di questo povero bigio che insomma adesso non so se si trovi ancora in uno stato simile ma temo che si trovi ancora disteso questo era ancora l'inizio esatto era ancora l'inizio del suo restauro perché veramente su questo chiudo mi rendo conto che ci vorrebbe un incontro intero per parlare non ha forse più di uno allora quando voi vedete questa immagine che a qualcuno fa paura soprattutto in questi giorni in queste elezioni con questa campagna elettorale con quello che si respira in realtà io credo ma mi posso permettere di dirvi questo perché non sono bresciano sono romano e sono un professionista di questo settore quindi ho uno sguardo sufficientemente come posso dire sereno sulla storia che riguarda il bigio per esempio io credo che sia fondamentale e necessario acquistare una giusta distanza da queste storie da queste vicende e da questi oggetti e la giusta distanza se guardato con la giusta distanza il bigio ci potrebbe risultare come il risultato come un elemento di un progetto pensato in un modo molto preciso che ha nulla a che vedere con la politica nulla a che vedere con la propaganda politica nulla a che vedere con l'ideologia quando Marcello Piacentini ha disegnato Piazza Vittoria non ne ha fatto un monumento al fascismo ora io mi rendo conto che tutti i nostri genitori e nonni usciti dal fascismo e dalla seconda guerra mondiale avevano una partecipazione di fronte a questi elementi talmente una esperienza talmente viva di quello che avevamo vissuto sulla loro pelle e che capisco possono aver attribuito certi significati a certi luoghi ma la storia va avanti e oggi noi sappiamo che è giusto pensare a questi luoghi come le piazze come le loro sculture riportandoli al tempo in cui sono stati realizzati e con le motivazioni con cui sono stati realizzati il nome era fascista età fascista per questa statua non gliel'ha dato Dazzi l'artista che l'ha realizzata cosa dovremmo dire noi romani di tutte le statue che circondano lo stadio dei Marmi cosa dovremmo dire dell'Eur di un intero quartiere dovremmo raderlo al suolo dovremmo cancellare quello che in quel momento la storia e la cultura e l'arte ha prodotto io credo che sarebbe un grandissimo errore so che i vostri politici e i vostri governatori temono no? quello che potrebbe accadere se il bigio tornasse qua ma io credo che una città matura e una comunità matura non dovrebbe aver paura del bigio dovrebbe aver paura di cancellare sapete che la cancel culture va molto di modo in questo momento di cancellare quello che la nostra storia ha prodotto perché questa piazza parla di noi anche attraverso quella scultura lì non c'è spazio per il dibattito purtroppo però volevo lanciare questo messaggio grazie mille grazie Massimo con tutto che poi la scultura di Paladino a me piace moltissimo e se la tolgono da lì trovate in un altro posto non la buttate non lasciamo lasciamola nei magazzini grazie Costantino abbiamo regalato 15 minuti a chi ci ha preceduto ce ne siamo presi 8 da chi ci succederà stiamo riallineando gli orari grazie anche di questo grazie mille il libro è là ho qualche minuto se volete qualche copia firmata a presto e buon festival grazie buon voto grazie a tutti